Ho detto in chat ma perché mi chiedevo se fosse possibile per me abilitarmi alla condivisione del video per mostrare e poi al termine dell'incontro vorrei inviare un file pdf a tutti i partecipanti, quindi non so se lo devo inviare all'ufficio catechistico e voi lo inviate per e-mail oppure… Sì se facciamo così forse è meglio, se ce lo giri a noi il pdf e noi provvediamo domani mattina a mandarlo a tutti che partecipano. E invece per la condivisione dello schermo io non riesco, cioè ho provato ma non mi dà la possibilità. Allora dovresti avere in basso essendo tu impostata come relatrice il tasto condividi. Perfetto, mi fa aprire le preferenze di sistema, io ho un Mac, dopodiché… Dove hai il video da far vedere, la slide o il video che da far vedere? È un PowerPoint. Ok, vai dove… condividi file? Sì. E adesso vai dove hai il PowerPoint, presumo sul desktop. È un mistero per me, eh? Ci vuole un attimo di pazienza, chiediamo scusa a tutti quanti, eh? Se non riesco faremo senza. Cioè mi apre le preferenze di sistema. Sì, se tu vai su le finestre sopra c'è il condividi file, oppure se tu mi fai vedere condividi schermo applicazione ti posso aiutare se hai sul desktop il file PowerPoint. Nel frattempo ricordo che per le registrazioni basta mandare una mail all'indivizio del nostro ufficio chiedendo la registrazione dell'incontro e noi la ve la inviamo. Ok, niente, non mi dà la possibilità, non mi dà condividi file, non mi dà condividi… Mi si apre una schermata, so Fulvia, condividi file. Mi si apre la schermata di sicurezza e privacy, è tutto attivo, è tutto… Fulvia, scusami, tu hai un mecca, hai detto, vero? Sì, sì. Allora, se tu premi Alt, Mela e K, dovresti poter condividere. Sì, lo vedo, ma… Cliccaci sopra. Non ti fa vedere il desktop. Aspetta, no, non me lo fa vedere, avrò qualche… È qualche limitazione forse di privacy. Eh, chissà. Va bene. Puoi mandare il PowerPoint a Domenico? Eh, proviamo a gestire così la cosa? Via mail, tramite mail, se me lo mandi all'ufficio catechistico, io ho la posta. Faccio subito, allora. Ok. Chiedo scusa, ma almeno con altre applicazioni mi ero trovata… Cioè, questa la conosco, non la conosco, questa Webex, e quindi non ho… Vabbè, intanto vedo che stanno arrivando un po' di persone. Sì, sì, si stanno mettendo in collegamento adesso. Allora, mando per email. Ovviamente quando serve è tutto rallentato. Posso mandare anche il PDF, lo mando dopo, vabbè, facciamo prima. Come vuoi tu. Messenger Chiocciola? No, ufficio catechistico. Chiocciola di Occesi di Roma punto it. Perfetto. Ok, possiamo farcela. Mentre Domenico condivide il file, noi facciamo giusto un attimo di epilogo dell'incontro precedente, poi diamo la parola al Sor Fulvia, che è stato con noi già per l'incontro scorso. Ecco, quindi questa sera a breve inizieremo il nostro secondo incontro di questo corso di formazione permanente per catechistiche sulla preghiera. Ecco, visto che la preghiera, come noi tutti i catechisti sappiamo, è uno dei quattro pilastri della vita cristiana, ecco, abbiamo pensato che è necessario fermarci su questo tema della preghiera, anche perché, come ci ha detto Sor Fulvia la settimana scorsa, a pregare si impara pregando e quindi educare alla preghiera non è insegnare tanto le preghiere, ma far fare esperienza di preghiera e farlo fare mentre si prega insieme. E quindi in questi incontri noi vorremmo non solo limitarci ad ascoltare ciò che ci sarà detto, ma ecco la durata breve dell'incontro che facciamo è appunto perché poi ciascuno di noi, con gli spunti che riceviamo, i tanti spunti belli che riceviamo da Sor Fulvia, possiamo riprenderli e poi farne spunto di preghiera o atteggiamento stesso di preghiera. Ecco, come ci diceva la settimana scorsa Sor Fulvia, ecco la preghiera non è altro che rispondere al desiderio che Dio ha di cercarci, di incontrarci ed ecco per cui lei ci ha detto la settimana scorsa che Dio si rivolge a noi chiedendoci dove sei. Ecco, se vi ricordate abbiamo concluso l'incontro la settimana scorsa appunto con queste due parole che Sor Fulvia ci ha lasciato, dove sei, tratte dal libro della Genesi e poi la parola semplicità. Ecco, stare con semplicità è in questa relazione ed è una relazione in cui non si applica una tecnica, ma è un semplicemente stare alla presenza. Ecco, gli spunti che ci vuole dare Sor Fulvia sono appunto nella dimensione del seme, quel piccolo seme che gettato possa portare frutto. E quindi lei ha individuato delle parole che attraverso le quali ci farà fare questo percorso. Diamo la parola a lei ringraziandola ancora una volta per la sua disponibilità e ci mettiamo in ascolto. Buon ascolto a tutti. Bene, vi ringrazio per la pazienza e di nuovo anche per questo invito misteriosissimo che mi raggiunge un po' nella mia vita che normalmente è fatta di altro più che di collegamenti online con circa 300 persone. Insomma, vivo con voi questa esperienza curiosa che mi sta aiutando anche me a rimettere ordine in qualcosa che nella mia vita ha assunto un po' una configurazione piuttosto naturale, nella mia vocazione quasi nella mia, nella nostra vocazione anche di consacrati, a volte quasi rischiamo di non chiederci più il motivo della preghiera, ma di viverla in modo rutinario. Accade a noi e può accadere a qualunque cristiano, ecco. E invece riflettere e tornare a ridirci, diciamo, i fondamentali della preghiera cristiana aiuta tutti noi. E sono contenta di essere aiutata anch'io. Nel riassunto della puntata precedente, così, tengo semplicemente a mente quello che ci muove a venire qui, a convenire qui, che è la stessa domanda che muoveva i discepoli nel guardare Gesù pregare, e poi chiedendogli, signore insegnaci a pregare, no? Credo che ognuno di noi sia mosso da questa stessa domanda e sappiamo appunto che non stiamo cercando qualcosa di tecnico, però stiamo muovendo dei passi, forse, dentro, mi piace chiamarla così, una sorta di nostalgia, come se nel nostro cuore, ecco, dovessimo soffiare, forse su una cenere depositata, che però conosciamo, nascondere una nostalgia di una relazione che in modo così straordinario desideriamo vivere. Agostino, Sant'Agostino, tiro acqua al mio mulino, ha delle parole incredibilmente efficaci nella loro semplicità, per definire, quando finalmente riconosce, definisce, si arrende a questa nostalgia, dirà, signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Mi sembra una sintesi veramente speciale di quello che potrebbe dire ognuno di noi si muove nel cuore quando desideriamo questa relazione con Dio. Vedremo che cos'è questo riposo, ecco, è uno degli obiettivi anche di questi incontri, ma abbiamo anche detto che è Dio stesso, no, che fa sorgere questa domanda dentro di noi per invitarci a questa relazione personale con Lui che è vivo e vero. Ecco Lui che ci fa questa domanda e sempre i padri della Chiesa ci insegnano che la preghiera, questa relazione non è un'impresa ardua per l'uomo, per la creatura, ma abbiamo già detto che è un cammino, che la preghiera è un cammino che vuole restituirci un ritorno a casa, stare nella vita, una possibilità di stare nella vita semplicemente per quello che siamo, figli di Dio, facendo memoria di questa figliolanza e della presenza di Dio. E la preghiera è proprio scritta nella nostra natura. Ecco c'era un mistico russo recente del XIX secolo, Serafino di Sarov, un monaco ortodosso, per definire l'uomo, lui diceva gli uccelli volano, i pesci nuotano, l'uomo prega. Quasi a dire che essenza costitutiva dell'uomo è stare in relazione con il suo creatore. Ecco, secondo me possiamo cominciare proprio da qui, da questo presupposto per la preghiera, alla preghiera, che è proprio questa relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. E vorrei quindi consegnarvi subito la parola di oggi, la parola di Dio di oggi anche che ho pensato di suggerire. Quindi la parola è sete e è suggerita dal catechismo, la parola è sete e la parola di Dio che vi invito a tenere con voi, a farvi fare compagnia da questa parola in questa settimana, è Giovanni IV, l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Sono due spunti che il catechismo suggerisce e non so se possiamo già, se è possibile proiettare il powerpoint, se è arrivato, se non è arrivato troveremo un'altra soluzione. Fulvia scusa, ti avevo mandato il mio indivizio personale perché la posta dell'ufficio non lo riceve sicuramente per una questione di grandezza. Ti rimando il mio indivizio, tu intanto... No, diversamente farò così, lo apro per me, se mi vedete, e leggo il testo direttamente dalla Bibbia. Preferivo proiettarlo in modo che seguissimo tutti insieme la lettura. Però ecco, ricordandoci intanto i numeri del catechismo a cui stiamo facendo riferimento, anche questo abbiamo detto la volta scorsa, ma è importante secondo me che ci ricordiamo questo, che dal numero 2558 al numero 2758 il catechismo e quindi la sapienza maturata nella Chiesa ci regala un trattato, una riflessione sulla preghiera di pregiatissimo valore. Per cui anche questo, forse è un testo che conoscete, però mi sembra importantissimo ribadire che abbiamo delle fonti più che spirituali, cioè elaborate da maestri della spiritualità, da persone che hanno pregato, riflettuto prima di noi e sono riusciti a regalarci questa meravigliosa sintesi che il catechismo oggi ci offre e vi invito a servirvene. Ecco, quando il catechismo al numero 2560 dice che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui e per raccontarci questa sete ci fa incontrare la donna samaritana. Leggiamo brevemente dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, solo i primi versetti. Giunse Gesù pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era mezzogiorno. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, signore tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Ecco, l'incontro di Gesù con la Samaritana diventa un paradigma, diciamo così, per la nostra preghiera. Perché? Proviamo a immaginare la scena che ci racconta l'Evangelista. Qualcuno di voi senz'altro è stato in Terra Santa, non so se avete potuto raggiungere la zona di Sicarra a cui fa riferimento il Vangelo e la zona della Samaria. Immaginate un terreno pietroso, qualche arbusto, un suolo arido, molta polvere e senza acqua. Ecco, è una terra che somiglia alla nostra, quella terra che Gesù è venuto a lavorare, la nostra Dama è venuto a lavorare e ad irrigare. Ma è mezzogiorno, fa caldo, c'è Gesù che è sudato, che è affaticato dal viaggio, è stanco e siede, ci dice il Vangelo, al bordo di questo pozzo. Arriva questa donna, anche lei sudata, stanca, forse ha battuto la terra in cerca di una sorgente che però non l'ha dissetata. Questo, l'Evangelista non ce lo nasconde e alla domanda dammi da bere si scatena questa conversazione che vorrebbe vedere la donna fuggire da questo impatto così importante con Gesù, ma insieme è trattenuta dal suo desiderio di ricevere un'acqua davvero dissetante. Ecco, dammi da bere è questa espressione che racchiude tutto il senso del racconto dell'intero Vangelo di Giovanni. È nascosto qui questo imperativo di Gesù che in verità è una domanda che è la stessa che risuona dall'inizio della creazione, è come un big bang della relazione e della preghiera. Ricordate sicuramente al termine di questo sesto Vangelo Gesù che ha sete dalla croce e chiede da bere. Ecco, di cosa ha sete Gesù? E questo la donna ancora non lo ha capito e forse ancora nemmeno noi. Gesù ha sete di dare la vita, di dare la vita perché è per questo che è avvenuto, per dare la vita e perché l'abbiamo in abbondanza. E la donna lo scoprirà soltanto quando inizierà a parlare con lui, inizialmente con diffidenza, come ognuno di noi, e poi piano piano fino a ricevere questa espressione meravigliosa come quella che Mosè ricevette da Roveto sono io che parlo con te, sono io l'acqua, sono io la sorgente. Ecco, il Catechismo ci ricorda che la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. E la preghiera è tutta qui, in un luogo, in un pozzo, è questa relazione, è questa possibilità di stare di fronte a qualcuno che ci dice chi siamo, come poi accade per questa donna che è ognuno di noi. Gesù e la Samaritana ci insegnano che la preghiera nasce dove c'è questo desiderio, o meglio, dove c'è questa mancanza. Non dobbiamo avere paura di ciò che ci manca. Se questa donna non fosse stata una terra arida, una mendicante di fecondità, di incontri, di amore, non avrebbe potuto incontrare la relazione e vivere quella relazione che ha cambiato la sua e la vita di molti, di tutti quelli a cui poi lei annuncerà di aver incontrato il Messia. Ecco, sia che lo sappiamo, ci dice il Catechismo, sia che non lo sappiamo, l'uomo e Dio si incontrano su questo fronte, cioè sul fronte di qualcosa che manca all'uno e colma l'altro. Per cui questo desiderio di felicità, di pienezza, di fecondità, ci è stato regalato da Dio come sorgente della possibile relazione con Lui. Ecco, Dio per primo chiama l'uomo, sempre ci dice il Catechismo, sia che sia vicino, sia che sia lontano, sia che si dimentichi del suo creatore, sia che accusi la divinità di averlo abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. E ci chiama come? Ecco, questo passo del Vangelo di Giovanni ci ricorda che ciò che ci manca è anche il luogo dell'incontro e che non dobbiamo temere di manifestare o di vivere o di portare questa grande mancanza che abbiamo nel cuore e può diventare il luogo della nostra sete. Ecco, la domanda importante di oggi è che di cosa hai sete tu, cioè qual è la sete che oggi ti anima, che cosa ti muove e qual è ciò che cos'è ciò che ti manca di più nella relazione con Dio, nella tua fede, nel tuo modo, se già lo hai di pregare. Ecco, Dio è in cerca di noi, Dio è in cerca, insieme è in attesa. Ecco, ci cerca e ci attende. È seduto al bordo di un pozzo o è lì che ci domanda dammi da bere o forse è anche lì che vuole che siamo noi a chiedergli dacci di quest'acqua, dammi di quest'acqua perché io non torni continuamente a bere senza mai dissetarmi. Allora, su questo Gesù ha sete e la sua domanda, ci dice sempre il catechismo, sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Questa espressione ribadita e sentita, avvertita così nitida da tanti santi nella storia della Chiesa e fa venire le vertigini, no? Conoscere che Dio ha, la sete è un bisogno, tutti noi abbiamo sentito una o più volte nella vita sete. Ecco, sentirci dire che Dio ha questa mancanza, la stessa che abbiamo noi, ha questo desiderio che noi abbiamo sete di Lui. E finalmente, senza maschere, senza far finta che ci manchi qualcosa, possiamo presentarci, ecco, a Dio, con la povertà, con quello che realmente non abbiamo, non abbiamo. La bellezza, credo, della preghiera cristiana è che non ci chiede un curriculum, non ci chiede delle caratteristiche, non dobbiamo sapere delle cose, non dobbiamo conoscere, non dobbiamo avere qualcosa da portare a Dio. Piuttosto, tutta la sapienza della Chiesa ci invita ad avere queste mani vuote, mani protese. Sapete che uno dei gesti della preghiera più significativi quando recitiamo durante la celebrazione eucaristica il Padre Nostro, o quando lo recitiamo in qualunque altra occasione, è quello di levare le mani al cielo, come fa il sacerdote. Qualcuno le tira su come se dovesse essere preso dall'abbraccio di Dio, o qualcuno le tiene giù semplicemente perché sono vuote, chiedono di essere riempite. I gesti sono molto importanti nella preghiera, vedremo anche perché e come. Però ecco, non dobbiamo, è il momento forse di non scandalizzarci di tutto ciò che ci manca, e quindi anche di tutto ciò che manca alla Chiesa, che la vorremmo sempre diversa da quello che è, la vorremmo diverse le nostre parrocchie, le nostre comunità. Ecco, poter immaginare che la sete che portiamo dentro di noi è finalmente il luogo dove Dio verrà ad incontrarci. E a proposito di questo, se avverti questa sete, se senti questa chiamata che è propria di ogni cristiano, di ogni battezzato, e a dare da bere al Signore con la tua vita, vorrei in questi ultimi minuti dare dei consigli proprio pratici. L'altra volta abbiamo detto, non aspettiamo di cercare un metodo per pregare, un metodo che possa produrre degli effetti spirituali che immaginiamo, non so come. Vi avevo già detto che però, prima proprio di entrare nel vivo del corso della preghiera, e quindi di pregare, abbiamo detto che a pregare si impara pregando, alcuni consigli pratici mi sembrano necessari. Mi perdoneranno coloro tra di voi che sono super catechiste, sono super dedite, super devote, pregano sette volte al giorno, non lo so, perché diciamo che il numero di partecipanti è talmente elevato e forse è un po' difficile capire quali sono proprio le necessità puntuali a cui rispondere. Vorrei però dire alcune cose su alcuni consigli, proprio molto piccoli, semplici, per aiutare un cammino di preghiera. Ecco, prima di tutto, credo sia necessario trovare un luogo adatto. Se non c'è, inventare un luogo adatto alla preghiera. È come se dovessimo davvero imparare da Gesù, no? Anche lui aveva i suoi luoghi preferiti per pregare. Era in disparte o era nel deserto o era in luoghi appartati, prediligeva, ci dicono, i Vangeli, alcuni posti piuttosto che altri e cercava un luogo dove poter stare liberamente nella relazione con Dio. Ecco, questo va cercato. Ha anche una forte valenza simbolica, però cerca un luogo lì dove sei a casa, ricreati, puoi crearti un piccolo spazio, un angolo della stanza dove c'è la tua poltrona preferita, dove c'è quel mobiluccio che non usi mai, dove c'è un comodino dismesso, dove puoi creare un piccolo spazio dove con bellezza e cura, con bellezza, con bellezza, puoi appoggiare forse una Bibbia aperta, puoi appendere un crocifisso, puoi mettere un'immagine, un'icona se preferisci, un'immagine qualunque che ti piaccia. Ecco, qualcosa che abbia il gusto di te e una lampada da accendere magari in quei pochi minuti che riesci a ricavarti, ma se non ce l'hai, inventalo, creati questo spazio. E questo lo dico perché anche quel plate vecchio a cui sei affezionata, quella cosa, diventa un luogo teologico, cioè un piccolo spazio fisico dove tu puoi sempre tornare per incontrare il Signore, è il tuo spazio, il luogo della tua relazione. E sarebbe meglio appunto se fosse solo tuo e se fosse dedicato solo a quello, ma basta un angolino qualunque, un fiore, una piantina, una cosa che crei un angolo di bellezza. E è il tuo pozzo. Quello è un luogo dove sai che puoi andare e è importante anche che sia semplice, che sia ordinato, che non ci siano troppe cose, che non ci siano troppi Gesù con tutti i raggi e poi il crucifisso e poi non so quante madonne, no, c'è una cosa proprio sobria che non ti distragga, ma che ti aiuti nel raccoglimento. Sarà utile anche che sia sempre lo stesso, cioè se è possibile, no? Cioè per creare una sorta di abitudine. Abitudine, noi la immaginiamo, proprio la parola, sempre ci manda a qualcosa che facciamo così senza pensare, ma abitudine ha in sé la radice dell'habitus, cioè di qualcosa che indossiamo. Quindi abitudine nel senso più nobile del termine, questo luogo della preghiera diventa un luogo della tua abitudine nella relazione con Dio, dove puoi abitare alla stessa radice, abitare la relazione. Si consoliderà un legame in questo spazio, diventa un luogo anche affettivo, dove fare memoria spirituale degli incontri con il Signore. E poi la seconda cosa è che anche il tuo corpo prega, o meglio, il corpo che siamo noi, tutto il corpo è chiamato, è convocato, è tutto insieme alla preghiera. Questo significa che ha bisogno di assumere una posizione comoda, che, ed è paradossale, il corpo ha bisogno di stare talmente comodo che lo faccia smettere di pensare a se stesso. È come se può stare talmente rilassato che si dimentica di essere. Non stai concentrata su come stanno le gambe, ti fanno male i piedi, e c'è il gomito appoggiato, ma il corpo finalmente partecipa alla preghiera in modo assente, non ci fa sentire il suo peso, eppure c'è, perché se non ci fossimo con tutto il corpo non ci staremmo. E anche questo potremmo scoprire che il corpo che siamo noi può diventare molto prepotente. Quando decidiamo di pregare ci accorgiamo di tutti i muscoli che fino a quel momento non sapevamo neanche di avere. e ci comunica un modo di essere resistente alla quiete, ci comunica una fatica, un'inquietudine costante, un'incapacità di stare fermo, di resistere quasi. Ecco, anche il corpo, o meglio noi nel corpo, abbiamo bisogno di trovare una posizione di raccoglimento delle nostre energie, come in un abbraccio, dove tutti sperimentiamo che in un abbraccio avvolgente le energie possono riposare. Ecco, il corpo vorrebbe partecipare alla preghiera in questo modo, deve partecipare alla preghiera? in questo modo. Cioè, come il grande assente eppure senza di lui non si può. E questa, se volete, se avete domande su questo, possiamo tornarci in un secondo momento, potete chiedere, non è facile, non è immediato. Noi, che siamo il nostro corpo, siamo tra i più grandi nemici della preghiera. Il nostro corpo, molte volte, ci è nemico. Ma ci può essere anche molto amico, ci può aiutare moltissimo. E a questo punto, se hai portato il tuo corpo nel piccolo luogo semplice che hai preparato per la preghiera, se sei arrivata, se sei arrivato fino a lì, inizia il grande circo, il grande spettacolo dei pensieri. Inizia il grande gioco dei rumori. Cercherai il silenzio, penserai che per fare un po' di silenzio lo ritieni, sai già, perché te l'hanno già detto tantissime volte, che bisogna fare silenzio per stare, per pregare e scoprirai che non basta spegnere, ottenere lontano il telefono, non è sufficiente spegnere tutti i dispositivi, isolare Alexa che ti parla anche se solo fai un rumore, scoprirai che c'è qualcuno che rumoreggia dentro di te, scoprirai che c'è un chiacchiericcio che costantemente tra te e te è sempre attivo, è sempre lì, probabilmente scoprirai forse che il silenzio, quello vero, fa paura e forse preferirai fuggirlo tante volte o altre volte lo cercherai talmente tanto che non lo troverai mai perché starei lì a ingegnarti, a pensare come fare. Non è una questione di muscoli, di sforzo, della volontà, anche sul tema del silenzio e della preghiera che sono chiaramente collegati, strettamente collegati come con il corpo e se volete possiamo tornare, se avete delle domande possiamo approfondire e sappiamo già che così come il corpo può esserci nemico, così il rumore che abbiamo dentro di noi può essere molto nemico della preghiera, ci fa ascoltare qualcosa che soltanto il silenzio ci rivela per scoprire che è davvero molto molto popolato il nostro silenzio e anche su questo se volete parleremo senz'altro del luogo della preghiera e quindi del silenzio però se avete delle domande potete farlo ecco anche se vi sentirete maldestri o goffi in queste piccole operazioni creare questo spazio cominciate così come siete ad ascoltare così come è la vostra sete credo che credo bene insomma che più di qualcuno di voi sia abituato a pregare e senza dubbio vi sembrerà un esercizio banale questo da fare allora io vorrei dirvi due cose se lo ritenete banale visto che è banale fatelo se è una cosa che dici vabbè guarda sta suora ci sta di questa cosa vabbè se è così banale fallo no poi mi dici com'è andata se banale non è fatelo fatelo ancora di più cioè in questo senso vorremmo non darvi scampo sempre perché per pregare bisogna pregare cioè non va bene che così qualcuno vi teorizzi sulla preghiera c'è necessità di farlo per imparare a farlo ecco per questo motivo ho preparato per voi e ad ogni incontro vorrei consegnarvi una piccola scheda che è una cartella semplice dove troverete un modo diciamo molto schematico molto povero molto semplice per cominciare a pregare pregare come intanto su questi temi di cui parleremo anche nei prossimi incontri quindi su ogni scheda troverete il tema a cui ci stiamo riferendo alcuni versetti della scrittura che ecco vi invito a leggere e ripetere e quindi a memorizzare non c'è niente di più bello che imparare a memoria la scrittura e quindi sono dei versetti dei salmi che sono preghiera ecco finalmente la nostra sete e la sete di Dio si incontrano in una parola che è la parola di Dio che ci viene consegnata regalata al nostro cuore perché impariamo a pregare quindi pochi versetti da ripetere da gustare veramente e poi vi ho messo dei testi di di meditazione di testi ovviamente di qualcosa di Agostino perché se stiamo parlando della sete e del desiderio Agostino è un maestro ma non solo troverete dei dei brevissimi testi estratti da alcuni testi e potrete leggerli per meditare cioè significa sostare in questo spazio e riflettere e vedere se qualcosa dicono al vostro cuore termina la scheda con una preghiera mi sembra questa volta ci sia Bonheffer che ci aiuta a chiedere a Dio di insegnarci a pregare e così in un momento qualunque durante questa settimana che ci separa dal prossimo incontro dedicando il tempo che vorrete che potrete concedere nello spazio che prima di tutto avete deciso di inventare nella vostra casa nella vostra camera non lo so ecco vi invito veramente a approfittare di questa piccolissima occasione e di questo modo che è uno dei molteplici modi che la chiesa ci consegna per imparare a pregare ecco è proprio un piccolo esercizio e io spero che ognuno di voi possa gustare la semplicità della preghiera la bellezza soprattutto della preghiera e anche la fatica la fatica che dice sempre in tutte le cose cosa ha valore cosa è più faticoso da conquistare ecco poi rimetteremo in ordine queste cose che in questi primi incontri così come una tempesta stiamo mettendo lì ora io invierò il file pdf così vi verrà inoltrato lo potrete leggere non so se avete la possibilità di stamparlo secondo me è meglio perché perché se alla preghiera vi portate il telefono io lo so come finisce perché io la vedo la gente in chiesa che no non prendiamo i breviari noi diamo i breviari no per seguire insieme a noi la liturgia delle ore e loro lo seguono sul telefono ora stasera squillavo un telefono durante la messa che uno cioè dico ma ti ti distoglie invece dalla bellezza della carta di poter sottolineare le cose di tenerle lì in mano di stropicciarle di piegarle di mettertele in tasca di trovartele inaspettatamente nel grembiole che hai lasciato in cucina e recuperare la bellezza proprio delle cose che tocchiamo che tocchiamo vedremo che il tatto è uno dei sensi spirituali tra i più importanti per cui vi consiglierei ecco di evitare l'uso dei dispositivi che sono utilissimi per moltissime cose anche per la preghiera certamente ma regalatevi un tempo detox come si usa a dire ecco il mio tempo è scaduto scusatemi per il tempo perduto e spero di rivedervi la prossima settimana grazie grazie scusculvia ecco facciamo tesoro di questa sintesi semplicità bellezza e anche fatica mettiamo tutto in conto e accogliamo l'invito a preparare lo spazio per la preghiera in cui fermarci in questi giorni e a dare voce alla nostra sete bene ci salutiamo allora domani dall'ufficio vi sarà inviato il pdf che scusculvia ha preparato per noi e e quindi vi salutiamo dandoci la buonanotte vi ripetiamo se ci sono delle domande che non sono arrivate neanche non sono arrivate attraverso la chat non abbiate il timore mandatele per email al nostro ufficio e noi provvediamo a girarle a Sorsulvia ecco un saluto buona serata a tutti e ci vediamo martedì prossimo grazie buonanotte grazie grazie a te Sorsulvia buonanotte grazie grazie a te grazie a te grazie a te